In una lettera scritta al Padre Benedetto da San Marco Illami, sin data 7 ottobre del 1918, Padre Pio scrive quanto segue. Oh bene dell'anima mia, dove stai? Dove ti sei andato a nascondere? Dove ritrovarti? Dove cercarti? Non vedi, oh Gesù, che l'anima mia ti vuol sentire ad ogni costo? Ti cerca da ogni e per ogni dove, ma non ti fai trovare se non nella piena del tuo furore, riempiendola di un'estrema turbazione ed amarezza, dandole ad intendere quanto ti si addice e quanto ti si appartenga. Chi vale ad esprimere la gravezza della mia posizione? Ciò che intendo al riflesso del tuo lume non valgo dirlo con l'umano linguaggio e quando io tendo a voler dire qualcosa, balbettando, l'anima rinviene di aver errato e di essersi più che mai allontanata dalla verità dei fatti. Ben mio, mi sei privo per sempre? Ho una voglia di gridare, di lamentarmi con voce superlativamente forte, ma sono debolissimo, le forze non mi accompagnano ed intanto cosa farò io mai se non fare ascendere al tuo trono questo lamento? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.